Il Pueblo è unito, il Pueblo è venito. Un po' unito, un po' unito, jamás sarà vencido. Un po' unito, un po' unito, jamás sarà venuto. 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 a questo paese. E per quello ringrazio tutti chi sono qui, tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione. È un inizio, è un inizio molto importante, ma anche molto positivo con noi, con la presenza di tutti i migrati. Grazie a tutti. Se voi siete qui, sono dell'avviso che voi qualcosa vi interessa, qualcosa avete capito, avete capito che viviamo in un clima di intolleranza, ma io non voglio elengare tutti quei momenti di discriminazione che abbiamo sentito, non mi porta da nessuna parte, non è quello che voglio, ma ovviamente proveniendo dall'Albania, certe situazioni di discriminazione, di violenza nei confronti di immigrati mi addolorano, ma sono contenta perché ci sono molti italiani che hanno capito che queste cose, queste discriminazioni colpiscono tutti quanti, hanno delle conseguenze gravi per tutti quanti. E se noi non stiamo in piazza, non diciamo no al razzismo, coloro che alimentano la xenofobia non fanno che aumentare il loro potere. è la prima volta, è la prima volta per l'Italia che una manifestazione del genere venga organizzata da stranieri, da stranieri ed è la prima volta e il cambiamento parte da noi! ok, dopo queste grande parole, ci cantiamo un vero affronte le frontiere, gente Ormai sono state chiuse tanto tempo e devono essere aperte, dopo tutto questo tempo, devono essere aperte le frontiere, perché la terra è unica, la terra è una terra, e gira la terra, gira e gira, non si sa mai, non si sa mai dove ti punta la terra, non si sa mai. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.